Nel 2007, nella primavera, abbiamo fatto in Bocconi la prima edizione di Economia e Società Aperta, una iniziativa che ha cercato di portare a Milano oratori e panelist da tutto il mondo per discutere insieme agli studenti, insieme ai cittadini di Milano in vari posti, il problema è come la società si può aprire per essere più flessibile e crescere meglio e in che modo lo studio dell'economia e la discussione dei temi economici può aiutare a capire l'importanza di una società che si apre e si adatta meglio alla globalizzazione. È stato un successo da tanti punti di vista, anche se però la società ancora molto aperta non è, quindi vale la pena andare avanti, quest'anno faremo una nuova edizione e abbiamo pensato di farla anche andando all'estero, cioè facendo alcune sessioni di questa iniziativa in capitali europee, dove andremo a discutere dei temi che sono particolarmente adatti ad essere discussi in quelle capitali. La prima tappa sarà a Parigi, il 12 di marzo, lo faremo in collaborazione con Sciences Po, che è un'università con cui l'Università Bocconi ha un rapporto di collaborazione importante ed è una sede prestigiosa per poter parlare di questi temi. In Francia parleremo di tre temi, il primo è il mercato europeo della proprietà delle società, del controllo societario, uno dei temi più delicati e dove i francesi hanno spesso delle posizioni di chiusura, quindi avremo un panel che discuterà perché le società francesi devono essere comprabili dalle società di altri paesi e viceversa. Il secondo panel guarderà al mercato del lavoro invece, la sua flessibilità, la necessità di rendere lo sempre più moderno e adatto a inseguire il progresso tecnico e a difendere i meno fortunati, coloro che devono passare da un lavoro all'altro e avere un periodo di disoccupazione ben gestito. In Francia stanno facendo dei progetti e in Italia anche, si tratta di confrontarli e avremo un momento di confronto e di discussione. Il terzo panel riguarderà l'inserimento delle donne e dei giovani nella società, come questo possa voler dire una società molto più aperta, piena di opportunità, che cresce meglio e in modo più adatto alle esigenze del mondo moderno.